musica 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 cosa è combinato? chi è? ah, ho dato i suoi barbieri ostrega perchè ma fa mai i suoi scontri e allora lei fa sonca e per forza... ahahahah, anche non fa più ogni caso e pensate che chi è della seca è che argogna a domandare a scontri? ma pensate allora me, invece di domandare poter andare e allora ho detto è un scemo mio, guarda la faccia del tutto o cosa è? perchè non si capisce più o meno, arriva tutte le volte e mi fa mai so, e avrò mia di capare la volta anche a me, perchè la capa è mia, e allora che c'è una lavora abbastanza insomma, ma il capisce mio è che ne voglio fare e allora me ho decidi che fosse una lavora per me, cioè sarà mia lavora proprio alla moda o lavora proprio al sistema però piuttosto che mi ha fatto il fidec alle mie che fanno me dai, cioè non è anche logico anche la mia cugnata che è una età che ha fatto allora almeno non mi ha cambiato un po' dopo, alle mie che mi ha di esigenze particolari o andare a cercare strani cioè, è normale anche a gestire, no? per quasi me e per forza allora dici c'è quella che mi ha fatto scontri ma non mi ha detto che mi ha detto certo, allora mi ha rompito i coglioni anche qui però è anche che il lavoro è facile di una certa maniera scusate, dai non mi ha detto cioè a me fanno che costa di più il barber della rata della macchina ma è normale che con me era imbambita ma l'ora la leo cosa è? poi ti ha fatto il culto tutta la settimana perchè? alla scuola allora ti ha detto ascolta dovrà il cuore e metterla Madonna poi dopo l'anno via là e dà me la re per tutti i lavori e te che vedi a me torna come è per certo ti ha fatto il regalo ogni età anche per fuori poi anche la settimana pagata si è andata a Disney a me torna con gli amici poi dopo l'ho portata fu a me due al motel eh? a me sempre al motel sempre motel sempre quel e ti ha pagato i nigger ti ha fatto conto troppo no no ascolta la è è Grazie a tutti.